Quattro partite in Europa, le prime quattro partite che ha fatto in Europa, fa tre gol, di cui poi inventando questa logica della doppia sponda, la tripla sponda, Riccardi ha detto così, e dice non so come fa però tira, trova sempre una sponda, è invidioso perché tu gli stai insidiando il trono dei capocanonieri. No, assolutamente, sarà molto difficile, io cerco di dare il mio contributo ma abbiamo degli attaccanti molto molto validi quindi il compito di segnare resta comunque a loro. Hai fatto un gran primo tempo, sei partito con proprio la voglia, riuscivi a mettere in difficoltà il tuo avversario, hai fatto il gol, è stato un approccio tuo ed è la squadra importante questa sera. Sì, volevamo partire subito forti per dare fiducia sia alla squadra che ai tifosi, ci siamo riusciti e volevamo dare anche delle risposte a noi e a chi ci guardava e ci siamo riusciti. Alessandro, Nagaia? Danilo, anzitutto complimenti ancora per il gol, questa Europa League sembra un po' la tua coppa, nel senso che al di là dei gol che hai segnato, se poi andiamo a vedere le altre italiane, c'è la Fiorentina che è la squadra dove sei cresciuto, il Torino che è la squadra con cui ti sei conquistato un pezzo di Europa League, il Napoli che comunque è la squadra della tua regione, per cui senti questo feeling particolare per una competizione che hai aspettato magari tanti anni per giocare e che poi ti sta dicendo così bene? No, sinceramente questa osservazione non ci avevo fatto caso, perché penso all'Inter che è la mia squadra e quindi come in passato ho fatto con le altre maglie, ma soprattutto con questa qua, perché è molto più importante rispetto alle altre e cerco di dare il 101%. Dani, ciao, complimenti. C'è una dedica per i gol? Iniziano ad essere un bel bottino, quindi... Beh, sicuramente alla mia famiglia, alla mia ragazza che mi sono state sempre vicine e poi al gruppo, perché questo qua è un gruppo nuovo e che nelle difficoltà ha dimostrato questa sera e spero che dimostri, perché è inutile negarlo che le difficoltà ci saranno, è un campionato lungo, le competizioni ci sono e sono sicuro che come questa sera affronteremo le difficoltà con la testa alta. Dopo il gol, Dani, sei andato subito verso la panchina ad abbracciare... No, 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 abbracciare coloro che erano in panchina, avrei abbracciato anche chi era in tribuna, perché per me è importante non solo chi gioca, soprattutto chi non gioca, perché è una squadra che va allenata bene e per allenarsi bene noi abbiamo bisogno di chi non gioca, perché abbiamo, come ho detto prima, tante partite e può essere importante il primo come l'ultimo giocatore. Come è andata a sinistra? No, no, bene, io non ho problemi né a destra né a sinistra, per me l'interpretazione della partita e del mio ruolo non cambia, cerco sempre di dare il massimo sia a destra che a sinistra. Fra l'altro, va detto che, contrariamente a chi gioca un po' di qua, un po' di là e magari è portato più a metterselo sul piede preferito, hai sempre cercato, forse solo una volta, quando hai fatto il gol, di usare il destro da quella posizione, hai sempre cercato di metterla in corsa di sinistro, perché quello è il sistema migliore per mettere in difficoltà le difese avversarie. Sì, se si rientra sul destro, quando gioco a sinistra ovviamente, perdo tempo, poi è normale che talvolta può succedere perché l'avversario ti colpere lo spazio. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama all'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli. Prova InterchannelAI Prova Interchannel